Buonasera e benvenuti da parte di tutta la redazione di Imperia TV. Sulla crisi in atto nella giunta comunale di Imperia le posizioni sono cristallizzate. Questa mattina il capogruppo del PD, Giafranca Mezzera e dei socialisti di Imperia di Tutti Imperia per Tutti, Roberto Saluzzo, hanno incontrato il sindaco Carlo Capacci. Doveva essere l'epilogo con la consegna delle deleghe dei rispettivi assessori e invece non è cambiato niente. Prima di prendere ulteriori decisioni sarà convocato un consiglio comunale su Riviera Acqua. Ma ognuno resta della sua idea. Vediamo. Noi speriamo che si renda conto il sindaco di cosa è stato fatto in questi ultimi tempi e torni assolutamente indietro torni assolutamente indietro sui passi che sono stati fatti, cioè prenda assolutamente posizione sul pagamento in Riviera Acqua che faccia ritirare l'istanza di fallimento, che faccia ritirare la richiesta di commissariamento, assolutamente, e ci sia un cambio anche di vertice in Amat della Presidenza. Perché è l'unico modo per perseguire poi le finalità che ci siamo poste, dove comunque sia, voglio dire, coloro i quali hanno preso questa posizione all'interno della maggioranza è perché hanno coscienza, hanno proprio a cuore, non come è stato fatto passare, ma hanno proprio a cuore il Comune e i cittadini e il dissesto finanziario sarebbe la cosa peggiore per questo Comune perché lo ingesserebbe per non so quanto tempo e quindi sulla base di questo se si ritorna indietro si ha la possibilità chiaramente di poter proseguire perché ci sarebbero tutte le condizioni per andare avanti, altrimenti penso proprio di no. Io ho in mano le dimissioni dei nostri quattro assessori, sono venuta a parlare col Sindaco ponendogli le nostre problematiche, abbiamo individuato con il Sindaco un percorso che adesso vedremo di riuscire a concretizzarlo e innanzitutto io le dimissioni degli assessori le ho in mano io, non le ho ancora consegnate al Sindaco perché noi comunque volevamo convocare una giunta per passare le pratiche, giustamente le pratiche che sono urgenti, le pratiche che se non passate potrebbero creare un danno economico alla città d'Imperia e quindi noi siamo per che gli assessori restino in carica finché non viene convocata questa giunta e passare queste pratiche importantissime tra cui quella dei contributi del PORFER e via di seguito. Nel frattempo col Sindaco abbiamo discusso, abbiamo individuato questo percorso abbiamo cercato di individuare questo percorso che sarà la convocazione di un Consiglio Comunale con la discussione dell'entrata in riviera acqua. Io mi sono riservata col Sindaco di portare questa notizia al mio partito e vedere se questa mossa che abbiamo individuato può essere valida per riuscire a ricucire complessivamente il rapporto di fiducia col Sindaco perché comunque il nostro obiettivo è quello che il Comune d'Imperia come già deliberato in Consiglio Comunale deve entrare in riviera acqua, quindi il discorso di riviera acqua con la richiesta di fallimento noi la contestiamo come contestiamo la richiesta di commissariamento dell'ato. In questo momento il primo passo dovrebbe essere questo Consiglio Comunale, probabilmente prima della fine di novembre sarà convocato d'urgenza e vediamo se con questo Consiglio Comunale riusciamo in qualche modo a mettere un punto fermo sull'entrata innanzitutto del Comune d'Imperia in riviera acqua e sul fatto di tutelare riviera acqua, mettere in sicurezza riviera acqua e l'atto per noi è importantissimo. Il Sindaco non è morbidissimo, comunque voglio dire in questo momento questo è il punto fermo che abbiamo trovato, io comunque devo portare il tutto al mio partito e quindi viene, comunque io in mano confermo ho le dimissioni dei miei quattro assessori. A dire il vero il mandato che io ho dal movimento che rappresento è leggermente diverso, oggi all'ordine del giorno non c'erano le dimissioni, c'era la discussione sull'acqua pubblica, noi vogliamo sapere come si va avanti, abbiamo chiesto ed ottenuto e concordato questo percorso che proseguirà con un consiglio urgente, noi speravamo fosse anche monotematico, in realtà abbiamo appurato che ci sono anche altre pratiche urgenti come variazioni di bilancio che saranno messe all'ordine del giorno insieme, all'ordine del giorno dell'entrata o meno nel gestore unico e vedremo, noi le dimissioni non le ho io, le ha il movimento, io rappresento il gruppo consigliare, quindi adesso relazionerò al movimento quello che è uscito oggi da questo incontro e dopodiché vedremo, se volete usando un termine antico, ma per chi si intende di politica forse un termine chiaro, diciamo che le dimissioni sono congelate. Alla luce di questo plico di polemiche che sono uscite in questo weekend direi che mi sembra un po' illogico tornare indietro e quindi abbiamo convenuto di portare una delibera di consiglio comunale che porterò io, nella quale chiederò al consiglio comunale alla luce delle sopravenute problematiche di Riviera Acqua, di Amat che ha richiesto a fallimento e poi bisogna vedere se avrà ragione, torto non sono io quello che lo deve dire, alla luce di questo fatto chiedo alla consiglio comunale di soprasedere all'ingresso in Riviera Acqua fino a quando la questione del fallimento non sarà chiarita e per chiarita vuol dire tutto, chiarita in qualunque modo, nel senso che Riviera Acqua può pagare quindi non c'è più il problema, il fallimento che si vende può essere dichiarato inamissibile, non c'è più il problema e quindi io chiedo soltanto di aspettare a vedere che cosa succede di questa richiesta, che è quello che ho sempre detto dall'inizio e non cambia assolutamente idea. Restiamo in argomento, gli assessori del PD daranno le dimissioni dopo la giunta di giovedì e il PD uscirà quindi dalla maggioranza, lo ha annunciato nel pomeriggio il segretario cittadino del Partito Democratico Antonio De Bonis, vediamo. E notizia di oggi pomeriggio che il PD è uscito ufficialmente dalla maggioranza, Antonio De Bonis, segretario cittadino, è così? Esattamente così, noi da una settimana che abbiamo fatto questa scelta in riferimento al mancato compimento della delibera presa il 9 marzo dal Consiglio Comunale dell'entrata in Riviera Acqua dove ci siamo accorti che non è mai stato fatto il versamento per entrare, a fronte di questo l'altra grande sorpresa è quella dell'AMAT, il Consiglio Amministrazione dell'AMAT che ha chiesto il fallimento di Riviera Acqua e non solo ha chiesto il fallimento di Riviera Acqua, non so a quale titolo, ha chiesto alla Regione di Liguria di commissariare l'atto provinciale idrico. Naturalmente è risaputo che il PD è per la gestione del ciclo integrato delle acque pubblica, noi siamo con tutte le difficoltà che ci sono per rafforzare e difendere la scelta naturalmente che è stata fatta di Riviera Acqua, sono già entrati 40 comuni e ci sembra un'assurdità quella di farla saltare e naturalmente da quelli che sono i comportamenti dell'AMAT e del Sindaco è evidente che il percorso che loro intendono fare è quello di arrivare a dare una mano a far saltare Riviera Acqua perché se no non si fa un'azione di questo tipo, questo è il nostro giudizio politico e quello naturalmente di andare in gara che era quella da sempre la volontà del Sindaco. A questo punto noi abbiamo preso delle decisioni su un fatto amministrativo così divaricante perché noi abbiamo già fatto una grossa battaglia per riuscire a portare in Consiglio Comunale a marzo quella delibera e che è stata approvata a larga maggioranza che poi all'interno dell'amministrazione fuori nelle società si lavori perché questa anzi non abbia efficacia questa delibera presa anzi si lavora anzi contro questa delibera è chiaro che noi l'obiettivo politico che vediamo è quella che arriverà a quei salti e di andare in gara e di andare in gara che naturalmente andare in gara vuol dire rimettere in gioco naturalmente che si potrebbe giocare con la gara evidente legittimamente IREN che altrimenti IREN sarebbe fuori dal ciclo integrato dell'acqua in provincia di Imperia. Noi a fronte di questo abbiamo deciso nello scorso direttivo la settimana scorsa in maniera ferma e all'unanimità del partito che per noi era inaccettabile, era l'opposto della nostra soluzione e che se il Sindaco confermava questa posizione saremmo usciti dalla maggioranza con la dimissione degli assessori. L'abbiamo detto, abbiamo chiesto l'incontro al Sindaco che oggi c'è stato, il Sindaco ha ribadito la sua volontà di non entrare in l'Iveracqua che condivideva le scelte di Amat e via dicendo, anzi mi è stato detto che era anche abbastanza infastidito come di solito è, a questo punto la Mezzera, il capogruppo quando è uscito ci ha riferito alle decisioni del Sindaco e noi non abbiamo fatto altro che ribadire le dichiarazioni e le decisioni che avevamo già preso a livello cittadino, a livello provinciale e a livello regionale. Noi siamo fuori da questa amministrazione, il Partito Democratico non fa parte più di questa amministrazione, gli assessori naturalmente gli è stato chiesto tecnicamente, direttamente gli assessori, ci è stato detto che giovedì c'è una pratica di variazione di bilancio per il Polfer da portare entro il Trento in Consiglio Comunale, cioè se potevano rimanere fino a giovedì per passare questa pratica da mandare in Consiglio Comunale, gli assessori hanno detto di sì, che gli assessori dunque giovedì parteciperanno alla Giunta, approveranno questa variazione di bilancio e presenteranno le dimissioni, che naturalmente il Partito come aveva già annunziato già aveva la dimissione degli assessori. Il Sindaco cosa farà? Non glielo so dire, è chiaro che se non aveva la maggioranza già di 16 prima, già oramai da mesi e mesi dove noi chiedevamo che il Sindaco portasse un documento per dimostrare che aveva la maggioranza. Adesso con 8 consiglieri, poi naturalmente i socialisti che hanno fatto un percorso con noi, risponderanno loro per la loro parte che hanno oltretutto i due consiglieri. Se il Sindaco, come aveva detto a luglio, ne prende atto che non ha più una maggioranza, darà la dimissione. Se non ne prende atto, vuole dire che il Partito Democratico farà tutte quelle azioni che può intraprendere perché prenda atto, diciamo, che non ha più una maggioranza per fare il Sindaco. L'Unione Europea destinerà 40 miliardi di euro per l'Africa nel suo prossimo bilancio. Lo ha annunciato il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. L'euro parlamentare Alberto Cirio ha evidenziato che per fermare l'immigrazione clandestina e aiutare realmente queste popolazioni non serve il buonismo, ma un aiuto concreto nei paesi dove l'immigrazione ha origine. Vediamo. Fermare l'immigrazione clandestina, fermare gli sbarchi è un dovere. È un dovere di noi italiani nel rispetto degli italiani e delle esigenze delle famiglie italiane, ma è anche un dovere nel rispetto di tante vite umane che in questo modo vengono salvate, impedendo dei passaggi in mare che, come abbiamo visto, molto spesso avevano dietro più l'interesse dei trafficanti di uomini che non invece l'interesse di libertà o di vita delle persone che erano costrette a scappare. Il dovere che noi abbiamo da cittadini europei è quello di porci questa domanda, di ricordare che le frontiere vanno chiuse. Io da italiano sono convinto che le frontiere italiane oggi vadano chiuse all'immigrazione perché non abbiamo più la forza e la capacità come paese di farci carico di questa emergenza, ma nello stesso tempo dico che non possiamo limitarci alla protesta, ma dobbiamo agire con azioni concrete, perché il problema lo si risolverà soltanto se noi metteremo fine a quelle che sono le condizioni per cui queste persone scappano dei loro paesi. Non parliamo infatti qui dei migranti politici, non parliamo di quelli che scappano dalla guerra, a queste persone siamo pronti, perché siamo tutti cittadini del mondo, a dare un tetto, a dare la sicurezza, a dare le cure ospedaliere, perché chi scappa dalla guerra va aiutato. Qui parliamo di quelli che Macron chiama i migranti economici, parliamo di quelle persone che scappano dal loro paese alla ricerca di condizioni magari economiche migliori. Ecco in Italia non le possono trovare le condizioni economiche migliori, perché noi oggi facciamo fatica a garantire condizioni economiche adeguate e dignitose agli italiani. Questa è la verità che dobbiamo dirci e che ci fa dire chiudiamo le frontiere, stop immigrazione. Nello stesso tempo però se vogliamo essere seri dobbiamo agire per trovare le risposte in quei paesi da cui l'immigrazione proviene. Parliamo soprattutto del Nord Africa ed ecco che una risposta positiva qui da Bruxelles arriva. L'ha annunciato il Presidente del Parlamento Tajani che dimostra ancora una volta come di fronte ai problemi è necessario agire con serietà, con determinazione e con forte concretezza. La risposta si chiama 40 miliardi di Euro per Nord Africa, 40 miliardi di Euro per impedire che ci siano e che si determinano ancora le condizioni che hanno portato allo sbarco, alla partenza, alla fuga di decine di migliaia di clandestini da questi paesi. Ecco come noi crediamo a livello anche di Forza Italia che vada affrontato questo tema. Da una parte la durezza e la determinazione di dire chiudiamo le nostre frontiere italiane ma dall'altra parte aiutiamo a casa loro in modo concreto non solo con uno slogan facile a dirsi ma aiutiamo a casa loro con risorse economiche vere queste persone che hanno diritto di poter avere una vita nei loro paesi d'origine. Dopo nove anni è stato assolto per non aver commesso il fatto un imprenditore di Albenga accusato di truffa. I particolari della vicenda nel servizio. Assolto dal Tribunale di Savona per non aver commesso il fatto un imprenditore di Albenga Santino Carrara denunciato per truffa aggravata formula piena anche per la moglie Angela Santinelli. Un calvario durato nove anni costellato da una lunga serie di accuse risultate poi totalmente infondate. A far scattare l'inchiesta l'accusa mossa dalla denuncia dell'ipote della donna Gabriella Comanedi che al geometra Carrara aveva firmato procura la vendita di una sua proprietà sita nel comune di Cisano sul Neva. Il congiunto della donna Nicola Viglizzo rivendicava di essere illegittime erede della Comanedi anche nel contesto dell'immobile da lei affidato a Santino Carrara che a sua volta l'aveva legittimamente e legalmente venduto alla moglie Angela Santinelli anche lei finita sul banco degli imputati pur sentendosi calunniata. La donna aveva acquistato l'immobile pagandolo profumatamente oltre al versamento di un vitalizio. Acquistato il bene era immediatamente scattata la reazione del nipote che aveva così presentato denuncia. I coniugi Carrara difesi dagli avvocati Ernesto Monteverde, Roberto Giacchiero e Daniela Giaccardi hanno dimostrato la loro completa estranetà ai fatti tanto che il pubblico ministero per primo ne aveva chiesto l'assoluzione scagionando completamente i coniugi Carrara, richiesta poi confermata dalla sentenza emessa dal giudice. Salva guardare gli habitat marini costieri significa tutelare le specie che vi abitano e quindi anche i pescatori e chi mangia il pesce gode delle bellezze del mare. Lo ha evidenziato l'euro parlamentare Renata Briano. Vediamo. La posidonia oceanica fa parte del nostro patrimonio di biodiversità. Fra l'altro non è un'alga ma è una pianta superiore ed è endemica del mar Mediterraneo dove purtroppo la sua presenza si sta riducendo sempre di più. Per la sua particolare sensibilità alle condizioni ambientali è stata considerata un vero e proprio bioindicatore. La posidonia fra l'altro coniuga alcune caratteristiche delle piante terrestri con altre tipiche delle alghe. Proprio grazie a questa sua peculiarità in passato ha avuto un notevole rilievo commerciale, basti pensare che non essendo infiammabile le sue foglie venivano utilizzate come isolante, per esempio sui tetti o per integrare certi mangimi animali o imballare oggetti fragili. Veniva chiamata addirittura l'alga dei vetrai, quindi è una grande tradizione anche nella nostra cultura mediterranea. I suoi usi non si limitavano agli soli scopi commerciali e venivano usate le foglie anche per guarire irritazioni e infiammazioni. La posidonia oggi è essenziale non solo per proteggere le coste dall'erosione ma anche per preservare la salute dei mari, contribuendo a trasformare l'anidride carbonica in ossigeno. È inevitabile che gli effetti del cambiamento climatico sugli habitat marini e costieri abbiano delle conseguenze negative anche sulle attività dell'uomo legate a questi ambienti, come per esempio la pesca. Sicuramente sono le attività dell'uomo quelle su cui dobbiamo agire. Il commissario mi ha già dato anche delle risposte, penso per esempio ai temi dell'erosione costiera, ma anche ai temi delle grandi costruzioni. Io mi ricordo quando ero in regioni di Liguria che ho dovuto battagliare fortemente per evitare la costruzione di un porticciolo che avrebbe cancellato dalla Liguria l'unica prateria di Posidonia che fiorisce ancora. Quindi per queste ragioni noi dobbiamo lavorare. Volevo fare delle domande al commissario ma con la sua introduzione ha già risposto. Grazie. Domattina in Piazza del Popolo a Savona sarà celebrata la giornata nazionale dell'albero. L'iniziativa è stata illustrata dall'assessore all'ambiente Pietro Santi. Vediamo. Sì, è una iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale e dal sindaco in prima persona. Saranno piantumate una quindicina di alberi, appunto di tigli grosso modo, nella parte dei giardini di Piazza del Popolo lato mare, praticamente la parte vecchia. Mancano alcuni alberi. Ecco, diciamo che è un'iniziativa sicuramente importante per dare un certo decoro alla città e al parco urbano, ma soprattutto è un'iniziativa di grande spessore in quanto noi crediamo molto nella cantumazione degli alberi. Ecco, è una nostra priorità e cerchiamo, come abbiamo già fatto l'anno scorso, di andare avanti su questa linea con molta convinzione. Ed ora facciamo una piccolissima pausa, fra poco.